articolo 18 prima e dopo la riforma fornero la cosiddetta legge numero 92 del 2012 riguarda quindi i casi di licenziamento ingiustificato quando si applica l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori innanzitutto per i casi a dei datori lavoro con più di 15 dipendenti nell'unità produttiva o più di 5 se impresa agricola b ai datori lavoro con più di 15 dipendenti nel territorio comunale o più di 5 se impresa agricola a prescindere dal numero dei dipendenti nelle singole unità produttive e anche se le singole unità produttive non raggiungono la dimensione dei 15 dipendenti caso c ai datori lavoro con più di 60 dipendenti in ambito nazionale a prescindere dal numero dei dipendenti nelle singole unità produttive nei casi in cui non si raggiunga la soglia articolo 18 si applica la legge numero 108 del 90 dobbiamo innanzitutto dire che prima della riforma fornero la tipologia di tutela era solo reale ossia il giudice del lavoro quando riconosceva l'illegittimità del licenziamento ordinava al datore non solo di reintegrare il lavoratore il suo posto di lavoro ma anche di risarcirlo corrispondendoli tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento sino al giorno dell'effettiva reintegrazione compreso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in ogni caso il risarcimento non poteva essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione mentre se non si raggiungeva la soglia dell'articolo 18 verso tutto la oratoria ad esempio un datore lavoro che prevedeva 14 dipendenti la tutela era solo obbligatoria quindi si prevedeva la reintegra o il pagamento del risarcimento del danno a scelta del datore di lavoro invece con la riforma fornero la tutela diciamo è stata scorporata in quattro tipologie 1 tutela reale piena in questo caso riguarda la nullità o inefficace del licenziamento perché discriminatorio o assimilato quindi i casi previsti dal primo e terzo comodo dell'articolo 18 si prevede la reintegra o a scelta del lavoratore l'indenità sostitutiva della reintegra più risarcimento del danno pari a tutte le mensilità perse dal licenziamento fino all'effettiva reintegra con un minimo di cinque mensilità detratto la liunde perceptum cioè quanto percepito con altri datori più il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali la seconda casistica invece riguarda la tutela reale attenuata anche qui siamo nei casi di licenziamento ingiustificato aggravato anche qui si prevede una reintegra oppure l'indenità sostitutiva della reintegra scelta del lavoratore più l'indenità risarcitoria pari alle mensilità perse ma entro un massimo di 12 dei tratti la liunde perceptum e la liunde perceptum cioè quanto avrebbe potuto percepire con altri datori più il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali quindi stiamo parlando di tutela reale cioè si prevede un effetto reale c'è la reintegra le altre sempre rimanendo sulla tutela reale attenuata riguarda i casi di licenziamento innanzitutto disciplinare quindi giusta causa o giusticato motivo soggettivo e le casistiche che si possono ritrovare sono uno se il fatto contestato non sussiste materialmente o giuridicamente due se il fatto rientra in una delle condotte che in base al contratto collettivo nazionale si prevede una sanzione conservativa la cassazione 2015 ha specificato che l'insistenza del fatto dell'articolo 18 come modificato dalla fornero comprende anche l'ipotesi in cui il fatto sussiste quindi c'è effettivamente però è privo di lecceità poiché la completa irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza materiale quindi è suscettibile di dar luogo alla tutela reintegratoria quindi la seconda casistica invece riguarda il licenziamento per giusticato motivo oggettivo e abbiamo tre possibilità uno qualora se certi difetto di giustificazione consistente nella sopravvenuta in idoneità fisica o psichica del lavoratore due viene intimato in violazione all'articolo 2110 secondo comma del codice civile tre se il fatto posto a base del licenziamento è manifestamente insussistente per quanto riguarda l'utilizzo del termine manifesta dobbiamo dire che la corte costituzionale nel 2022 con la sentenza numero 125 lo elimina questo termine perché innanzitutto uno è indefinito si presta incertezze applicative due non ha alcuna attinenza col disvalore del licenziamento intimato che non dipende dalla maggiore facilità dell'accertamento giudiziario poi dobbiamo dire che tre risulta eccentrico rispetto all'apparato delle tutele in materia incentrato sulla diversa gravità del licenziamento dei vizi di licenziamento e quattro appesantisce inutilmente il processo a causa della sua vaghezza perché un termine abbastanza vago è indeterminatezza in più la cassazione ribadisce nel 2018 che la manifesta insussistenza del fatto concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e quindi sia le ragioni inerenti all'attività produttiva all'organizzazione del lavoro e regolare il funzionamento di essa e sia l'impossibilità di ricollocare altrove i lavoratori cosiddetto repeshage quindi era manifesta insussistenza è una nozione onnicomprensiva quindi riguarda sia i casi attinenti a giudicato motivo oggettivo che anche all'impossibilità di ricollocare il lavoratore e la manifesta insussistenza va riferita ad una evidente e facilmente verificabile sul piano probatorio assenza dei suddetti presupposti che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso quindi è manifesto se è pretestuoso terza casistica tutela indenitaria forte nelle altre ipotesi di licenziamento ingiustificato il licenziamento benché ingiustificato estingue il rapporto di lavoro e la tutela è solo economica quindi c'è un'idenità risarcitoria onnicomprensiva che va da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità però eliminando il termine manifesta quali sono le altre ipotesi la corte costituzionale sempre con la sentenza numero 125 del 2022 stabilisce i casi in cui la violazione riguardano i casi in cui c'è una violazione del criterio della buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare quando la posizione soppressa è occupata da più soggetti tra loro fungibili cioè tra loro diciamo sostituibili ultimo caso è la tutela reale scusate tutela indenitaria attenuata che riguarda l'ipotesi di carenza di motivazione o in osservanza degli obblighi procedurali articolo 18 sesto comma statuto lavoratori e qui si prevede un'idenità risarcitoria onnicomprensiva che va da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mensilità